Mia mamma ha fatto la storia perché è stata la prima, insieme a altre 11 donne, donna militare italiana. Di conseguenza io sono la prima figlia di una coppia militare italiana. Studio alla John Cabot University Communication Psychology and English Literature. Per me il mascara è un must. Metto i tacchi ovunque. Agli scout infatti mi chiamavano Cerbiatto Vanitoso perché... beh, perché? I miei genitori mi hanno detto che l'esperienza militare non è facile, però proprio per questo sono entusiasta di provarla, perché la vita da spettatore per me non è abbastanza. Grazie a tutti.